Abbiamo deciso di creare questo master in beni culturali, conservazione e tutela dei beni culturali, sono due parole non scelte a caso, ma sono due parole che vogliono sottolineare vari aspetti, che vanno dal che cos'è un bene culturale, che non è così scontato e soprattutto è un concetto che va evolvendosi nel corso degli anni perché ci sono differenti sensibilità e differenti aspetti sociali da tenere in considerazione, fino alla tutela e alla difesa, quindi rientreremo anche nel discorso delle nuove tecnologie perché c'è la conservazione, i metodi che si applicano per tutelare e conservare, ma anche per difendere e anche qui ci sarà una piccola parte, sezione dedicata alla legislazione dei beni culturali e al modo in cui si possono gestire, ma non mancherà anche altri aspetti come quello gestionale, quindi di management, il cosiddetto management, di sostenibilità dei beni culturali soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del rimpatriare beni culturali e beni archeologici che si trovano all'estero, che sono stati trafugati più o meno illecitamente, anche questo aspetto verrà molto dibattuto ed è un tema molto molto caldo e molto moderno che verrà affrontato sotto vari punti di vista. Come anche per il master di archeologia e antropologia forense, anche qui ci sarà una ventata diciamo di esterofilia, non perché diciamo in Italia non ci sia sufficiente materiale, anzi noi partiremo dall'Italia proprio per snocciolare questo aspetto dei beni culturali, ma perché andremo a vedere anche un po' all'estero come funzionano le cose, avremo anche diciamo un ampio parterre di persone che parleranno e si confronteranno diciamo con la realtà italiana e con la realtà estera, anche qui quindi sostanzialmente ci sarà un passaggio dalla teoria alla pratica, quindi una teoria molto innovativa fino alla pratica e qui anche poi avremo diciamo un paio di moduli proprio esteri sostanzialmente tenuti dal professor Palmieri in Spagna, avremo soprattutto due stagi, uno appunto con la professoressa Mongelli al museo dove lavora a Lucca e l'altro appunto con il professor Palmieri all'Università di Cordoba. L'aspetto fondamentale è non solo il motivo perché appunto è partito questo master, ma anche la finalità, quindi il poter diciamo creare dei professionisti ben preparati che possono lavorare fondamentalmente ovunque, a cominciare dal Ministero della Cultura italiano che diciamo ultimamente sta sfornando diciamo una serie di bandi uno dietro l'altro e diciamo questo tipo di master è esattamente designato proprio per poter applicare a questi bandi, ma non solo, si può anche applicare in altri ministeri italiani come il Ministero degli Affari Esteri che prevede cooperazioni internazionali, diplomazia culturale attraverso enti come l'ICROM, come l'EUNIC che è l'UNESCO stesso, l'ICOMONOS, la professoressa Mangelli che si occuperà appunto dell'aspetto della museologia, della museografia, quindi anche chi ambisce a diventare direttore di museo comunque lavorare all'interno di contesti museali come privato, come manager privato, come diciamo pubblico comunque all'interno di questi contesti, oppure anche come consulente per enti pubblici e privati preposti alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, sappiamo che ultimamente questa figura è richiesta molto non solo in Italia ma anche all'estero e ovviamente anche toccheremo la parte del marketing e quindi potrà anche diciamo essere speso questo titolo come esperto in marketing e comunicazioni per i beni culturali. Grazie. 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 Grazie.